ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video scusate se non mi sono fatto più sentire in queste ultime due settimane spero che ve lo siete passate bene in questo 2016 festeggiate in famiglia sono stato in italia a trovare la mia famiglia sono rimasto veramente contento e adesso ragazzi sono arrivato qui in germania in questo quest'anno ragazzi ci saranno tantissime sorprese quindi ragazzi adesso sarò più attivo sul canale avrò più tempo per fare i video poi farò vedere tantissimi giochi in uscita che sto aspettando tanto atteso naruto storm 4 poi ci sono altri giochi che vorrei farvi vedere comunque seguitemi ragazzi che adesso sul mio canale arriveranno tantissime sorprese tantissime novità e poi ci aggiungerò dopo gameplay ci aggiungerò pure qualcosa grazie per sempre per il vostro sostegno ho visto sempre vari commenti nei miei video cercherò di rispondere il più presto possibile però ragazzi alla al di sera dopo le sette riesco a rispondervi quasi tutti quindi scusate se non risposto durante la giornata a tutti quanti ma di sera adesso riesco ad organizzarmi meglio ok vi mando un abbraccio e noi ci vediamo nei prossimi video adesso inizierò a fare qualche gameplay su riprenderò yugioh riprenderò clash of clans che da parecchio tempo che non ci gioco e qualche altro gioco vabbè ragazzi vi ringrazio sempre per vostro sostegno che mi avete dato fino adesso ma adesso inizierò a fare i video ciao